Una serata con Isale Chiodato, siamo con Paolo Rosati perché il vostro concerto è inserito anche nel cartellone della società Aquilana Baratelli, con un pensiero a Massimo Gallucci, medico, che è uno dei vostri, diciamo uno dei vostri, è sempre presente con voi. Che cosa proporrete al pubblico aquilano? Allora, proporremo intanto nel ricordo di Massimo due brani del vecchio repertorio in cui insomma ci sarà anche lui in maniera anche molto presente e dopodiché proporremo un repertorio quasi del tutto nuovo, tutti i brani che abbiamo composto in questi due o tre anni di stop. L'ultimo concerto l'abbiamo fatto a dicembre del 2019 e in questi mesi, in questi anni abbiamo prodotto tanta roba e ne faremo un album nuovo sperando che la registrazione che faremo quella sera verrà bene per poterlo fare. Ricordiamo a tutti l'appuntamento allora. Ore 21 e 30, domani venerdì 24 all'auditorium del Parco.